Allora, sono incappato nel fubbing, che sarebbe la fusione dei termini phone snubbing, cioè l'atto di ignorare o trascurare l'interlocutore concentrandosi sul proprio smartphone. Cioè, quindi tu stai parlando con uno e questa persona, al posto di guardarti o di parlare con te, continua a scherzare. Vabbè, volevo fare un video nel quale, scherzando, per metà del tempo guardavo il cellulare, non guardando voi per farvi capire il disagio. Poi ho desistito dal progetto, ma mi sono anche chiesto quale fosse il problema e se siamo, in qualche modo, davvero diventati inefficienti e incapaci di gestire dei semplici bicchieri d'acqua nei quali evidentemente finiamo per perderci. Allora, io il problema vero di questo fubbing lo vedo solo se dei genitori lo mettono in atto verso i loro figli. Quindi avremo un neglect importante dei genitori pessimi e dei figli trascurati. Nel caso opposto, figli che snobbano i genitori perché hanno la faccia schiantata sullo schermo, beh, cari genitori, cosa volete che vi dica? Anzi, cosa volete non sentirvi dire? La famiglia la gestite voi. Se non siete in grado di gestire i vostri figli e avete abdicato al vostro ruolo perché deve pensarci la scuola oppure i ragazzi, ormai sono tutti così, come se la generazione millennial o post-millennial fosse scesa dal cielo su un'astronave e noi adulti vivessimo una situazione di invasione, tipo l'invasione degli ultracorpi, non lo so. Io poi di figli non ne ho, quindi per me è facilissimo fare e parlare come il migliore genitore del mondo. E poi arriviamo alla terza categoria, alla quale il termine fabbing in realtà è evidentemente dedicato, ma che per me non dovrebbe minimamente esistere. Cioè, gente in relazione di coppia o amicale o qualche che si abbruttisce perché l'altro guarda il telefono al posto di parlare con te. Ma il problema, scusate, lo avete voi a stare con questa gente, non loro. Ma perché vi relazionate con persone che mentre parlate loro guardano il telefono e non vi danno retta? Cioè, ma perché vi incartate, entrate in ansia e coniate neologismi? Ma ritornate a comportarvi come attori primari della vostra vita. Vi accompagnate con maleducati di questo tipo? Ma basta, cioè dal giorno dopo frequentate altre persone. Mi fa fabbing, mi fa ghosting, mi fa orbiting. Cioè, l'ecologia della mente, dei pensieri, è una cosa molto importante. Cioè, in questa maniera ci si riempie solo la testa di termini, che sono concetti, che sono comportamenti, che non vanno bene. È costruire una narrativa di sé e degli altri patologica, quando l'energia dovrebbe essere spesa piuttosto per risolvere il problema. E, in questo caso, è molto semplice. Si smette di frequentare la gente maleducata, egoista e caffona. Punto. Se poi riusciamo anche a far capire la lezione, è grasso che cola. Ma, in primis, tornate a trattare voi stessi con decoro. Mi ha fatto fabbing, mi fa orbiting. C'è questo piacere anche quasi sottilmente nevrotico nel narrarsi, soprattutto sui social, vittime di non problemi, cioè di problemi sradicabili in un secondo. Eh, ma dottore, quando si è innamorati non è facile. Beh, allora, al di là del fatto di riflettere su cosa ci sia di amabile e amorevole in una persona che vi snobba, vi metto sull'avviso che se voi giustificate le vostre debolezze sulla base di una specifica dimensione emotiva, allora state spalancando la possibilità che chi vi tratta male faccia appello a una parallela condizione emotiva fragile, traumatizzata, incasinata, che giustifichi il suo narcisismo, la sua indolenza, le sue menzogne. Da un punto di vista clinico è davvero così. Dietro ai peggiori comportamenti c'è un disagio. Punto. Ma io queste cose le devo affrontare perché è il mio lavoro. Voi, invece, alla prossima.